Grazie a tutti e grazie tantissimo per l'invito, vi ringrazio a nome di Saccage perché all'interno di questo collettivo che lotta contro i giochi olimpici ogni volta ridiamo dicendo che forse ci saranno nel 2024 ma organizzeremo una cosa talmente grande che alla fine dovranno per forza annullarli. Alla fine la linea del collettivo che è evoluta nel tempo è quella ovviamente di pensare i giochi olimpici sempre come gli ultimi, gli ultimi giochi olimpici perché lottiamo contro quelli di Parigi come quelli che ci saranno a Los Angeles o ancora a Milano Cortina quindi l'invito questa sera è importante anche per questo. Con Saccage ragioniamo molto su quello che sta succedendo perché vediamo una connessione diretta con questo 2024 che è una sorta di forma totalizzante in cui la Francia sarà i giochi olimpici e per questo motivo ragioniamo anche sull'evoluzione di queste ultime giornate, avevamo pensato questo incontro ancora prima delle rivolte nelle banlieue ma è importante pensare tutto come un insieme e vi propongo di riflettere anche al nostro percorso come Saccage su due linee che secondo me in un certo senso intrecciano la mobilitazione che c'è nelle banlieue e più in generale appunto questo 2024 perché i giochi olimpici vuol dire parlare di due tendenze molto forti, una è quella della distruzione della gentrificazione ovvero di cambiare i territori senza in alcun modo interpellare e chiedere alla popolazione che vive questi quartieri, che vive questi territori. I giochi olimpici 2024 saranno appunto nella Saint-Saint-Denis, Francesco parlava dell'idea, io vi riporto proprio nei territori. Saint-Saint-Denis che per chi non ha ben presente Parigi è il 4-2013, quindi ha un dipartimento estremamente grande che prende dentro Aubervilliers, la Courve Neuve, Saint-Denis, estremamente povero, è il terzo più povero con anche un altissimo livello di precarietà e quindi il fatto appunto che le olimpiadi saranno lì vuol dire qualcosa, i processi di gentrificazione in atto hanno anche qualcosa a che fare con questa rabbia che si è così rivelata in questi ultimi giorni ma che in realtà è latente e presente da tempo in questi territori. E poi c'è un altro processo che è quello della repressione e va estremamente d'accordo di pari passo con i processi sia di gentrificazione che di distruzione del territorio e questo appunto lo vediamo chiaramente nell'ultimo periodo con la repressione estremamente forte nelle banlieue ma anche in tutto quello che è il progetto di Gérald Darmanin, il ministro degli interni francese che quando si trattava di fare la legge di bilancio nel 2022 per il 2023 ha iniziato a parlare bene di delinquenza zero, cioè questo progetto appunto di delinquenza zero di pulire i territori esattamente come se ne parlava già alle Olimpiadi di Rio e ha costato appunto lo sgombero di 67 mila persone. Ora in Francia abbiamo numeri e una situazione completamente diversa ma si è chiaro appunto questo obiettivo che si va realizzando e che i giochi olimpici stanno accelerando. Con quella legge di bilancio nel 2022 è stato aggiunto un miliardo alla sicurezza, quindi un aumento che li ha portati più o meno a 15 miliardi dedicati solamente al budget praticamente polizia per costruire appunto nuovi reparti di polizia e ha ben precisato che per i giochi olimpici del luglio 2024 ci saranno mobilitati sul territorio 30 mila poliziotti, 10 mila militari, 20 mila agenti privati e l'introduzione di nuove 15 mila telecamere di sorveglianza con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che è stata votata perché prima era vietata, nell'aprile di questo anno con la loi olympique 2, la legge olimpica 2 che tra l'altro appunto e qua si ricuce anche il legame con la riforma delle pensioni che hanno utilizzato come grande fattore appunto per nascondere sotto il tappeto tutta una serie di leggi che noi a Sakaja abbiamo definito il triangolo repressivo. Una di queste è la loi olympique 2 che altrimenti ne avreste sentito parlare avrebbe fatto molto più scandalo di quello che è stato perché appunto si tratta veramente di introdurre la sorveglianza con intelligenza artificiale e 15 mila telecamere di sorveglianza che una volta finanziate chiaramente rimarranno e poi anche tutta una serie di misure sulle questioni appunto del diritto all'abitare quindi una criminalizzazione per esempio delle occupazioni fino a tre anni di carcere 30 mila euro di multa, questa è la legge Casbarian e poi l'ultimo polo della legge di questo triangolo repressivo è quella sulla loi immigration. Quindi vediamo appunto tutta questa struttura che si sta mettendo en place, quindi che si sta costruendo nel 2023 per preparare quella zero delinquenza del 2024. Noi come Saccage quindi ci stiamo riflettendo attivamente ma lo dico anche questo noi come membro anche del comitato dell'Ile de France dei Soulevement della Terre abbiamo cercato di portare il nostro appoggio diretto già dal 28 quindi il giorno dopo la morte di Naël con quel grande appunto momento di mobilitazione a Repubbliche come in molte altre città della Francia perché siamo molto convinti di una cosa che ha detto Francesco ed è di non isolare, di non giocare il gioco del governo di questo separatismo, di pensare a queste ultime rivolte come qualcosa che non c'entrano niente con questo 2023 di mobilitazioni e c'è una cosa che mi è piaciuta molto di un discorso che è quello di Fatima Wasek che è una politologa che ha scritto un libro che si chiama Ecologia Pirata e lei parlava di una sorta di continuità che osserviamo di violenza, una continuità della violenza, della repressione della polizia che trova il suo polo più forte, più stretto, questo pugno più duro chiaramente nelle banlieue e ancora prima nei territori d'Utremer e ancora prima in questa appunto visione coloniale di cui parlavi e nelle banlieue si gioca appunto il grande laboratorio repressivo che nel 2005 per esempio ha visto l'utilizzo di El Bede che oggi ritroviamo appunto anche contro i nostri movimenti, penso ai Gilets Jaunes ma penso anche a Sansolin, le 4.000 granate, i 200 feriti di cui due estremamente grave in fin di vita, ma penso anche a un tipo di violenza in cui si costruisce questo continuum che è molto più istituzionale ed è quella dello scioglimento, lo scioglimento del movimento dei sullevamenti della terra è stato anche reso possibile da una legge che è definita appunto come loi separatisme o ancora detto in francese la loi reconfortante, le principe della Repubblica che è stata approvata nel 2021 e questa legge in realtà aveva nel mirino chiaramente per la sua conformazione estremamente razzista e islamofoba tutte le associazioni culturali musulmane. Ecco oggi viene utilizzata contro il movimento ecologista e prima dei sullevamenti della terra anche un gruppo antifa di Lione che poi in ultima istanza non è stato sciolto ma vediamo appunto questa traslazione, questo principio che deve quindi farci veramente pensare ad una sorta di continuum nella violenza, in questa violenza che sta diventando strutturale e che i giochi olimpici andranno ancora di più ad amplificare e quello che deve essere qualcosa secondo me che almeno noi di Saccage o noi dei sullevamenti della terra o noi del movimento ecologista possiamo effettivamente trarre da tutto ciò è che un movimento che si propone di essere la natura che si difende, la terra che si difende non può non pensare ai corpi che sono più esposti su questa terra, i corpi che la vivono e che sono in prima linea contro questa repressione e che sono quindi limitati appunto nella loro possibilità di muoversi nello spazio, sono limitati nella loro possibilità di esprimersi, di espressione, vediamo già per esempio come i controlli da parte della polizia all'interno delle banlieue contro le popolazioni arabe e nere sono molto più alti ed elevati rispetto che le popolazioni bianche, questo è assurdo, è assurdo anche solo pensarlo, quindi un movimento ecologista che si rispetti oggi deve veramente appunto assumere questa posizione e ripensare questo modello della natura che si difende come una natura che difende prima di tutto le persone anche che abitano questi territori ed è quello che noi a Saccage cerchiamo di portare avanti.